Musica 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 Tangit po naman Nakatawa pa kong pangit ko naman sabi na stem and senza wargare come andre voglio bene i non so non so non so i non so sono arrivato la nostra macchina a di questo la nostra città Poensi, vediamo la prima. Prima del primo isa con la Plyatrice. No, non saremo l'amico. Sì, non so la vediamo. Sì, attacchiamo, fatta per farlo. La prima volta, risicoloso. C'è questo? C'è questo? Siamo in editare. Ego. C'è questo? C'è questo? C'è questo? ora si è fatto? si è fatto non ci sono ancora non ci sono ancora non ci sono non ci sono c'è qualcosa non ci sono non è ancora visto ora si è fatto si è fatto Basta Ciburi first Basta Itadakimasu 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 And smash it Waiting exhibitors Soup Itadakimasu Sarissa Enjoy Itadakimasu 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 Questo è tommo, questo è un buon bambino Cebile Quindi questo è il vostro first vlog? Quindi stiamo a casa? Ciao and first time din namin kumain di di Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Grazie a tutti. 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 , 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 ,, ,,, ,,,, ,,, 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 ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,, ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,,